Ciao, sono Antonio. Siamo in una delle gallerie più recenti delle catacombe di San Gennaro e in modo particolare di fronte alla tomba di Cerula. L'affresco, datato al V-VI secolo, ci mostra al centro la donna, raffigurata con le braccia aperte in posizione di preghiera, con il particolare dei Vangeli raffigurati al di sopra delle mani. È interessante che all'interno dei testi si leggono ancora i nomi degli evangelisti, ma la cosa più particolare è che questo affresco, scoperto negli anni 70, negli ultimi decenni era stato lentamente ricoperto da una patina di sali. Noi siamo riusciti a ritrovarlo e a restaurarlo nel 2011, non solo riportando alla luce l'immagine della donna, ma soprattutto scoprendo la figura di San Paolo e quel che resta della figura di San Pietro. I due santi accompagnavano la donna alle porte del paradiso.